La Copma di Ferrara è un'azienda che si occupa di? La Copma di Ferrara è una società cooperativa che opera sul mercato della pulizia e della sanificazione dal 1971 e ha sempre percorso in questa sua attività, ha orientato la sua attività perseguendo il filone dell'innovazione pensando che questa strada sia assolutamente importante per cercare di creare valore al proprio cliente al quale sicuramente prestiamo i nostri servizi. La scelta del Mepaie nasce da? La scelta del Mepaie nasce dalla volontà di confrontarsi con un mondo che riteniamo molto importante e che in questa circostanza ci consentiva di confrontarsi con tematiche come quella del sistema sanitario, del controllo delle risorse e dell'innovazione da portare sul sistema. Abbiamo pensato che questa fosse un'occasione importante di confronte con vari operatori di questo settore. E com'è stata questa esperienza? Direi che è stata un'esperienza senz'altra positiva. Il confronto con i vari operatori dei vari mercati è sempre un passaggio necessario e importante e in questa occasione, in questo contesto abbiamo trovato la possibilità di raccogliere ulteriori spunti per guidare la nostra attività di impresa.